che cazzo è quello schifo? è il dio io l'hai fatto? no bravo oh, così già ci stiamo capendo il meccanismo ha fatto un bel lastre sull'anno non riesco a prenderlo che è? il Mario è l'ambiente presente tempo e lo so, pure a me mi mette cose troppo basse ogni tanto no, perché voglio 60 fps non c'è solo 60 fps oh vedi, hai detto prima vuoi fare una delle legnate storiche ti è? imparabile oh hai detto vuoi fare una delle legnate storiche è fatta, ti è? te la salvo pure guarda il portiere fisso che sono messi ma porca, è manca sotto il portiere fisso hop no, non ce l'ha dentro non ce l'ha dentro hop, si muove, si muove ma hai tu ma hai tu ma hai tu, c'è Flavio ma è uscito? come è uscito? un attimo e adesso adesso bisogna fare le cani i drogati ma io non ho fatto le cani ma io non ho fatto le cani ma io non ho fatto le cani i risultati mi hanno fatto il puente aiutare questo siamo rubati Smazz Fox. Guarda, guarda che tiro. Ci ha provato, ci ha provato. È piccolo, Nick. Oh. Vai, no, vai, 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 vai. Tranquillo, tranquillo. Ho visto che tutti non sapevo se la prendevano o non la prendevano sul muro. Sì, sì, ho cercato un attimo di capire. Ho fatto, vabbè. Oh, ti ammazzo. Eseguo. Tanto stanno qui da loro. Vai, 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 vai tutti, Fla. Mamma mia, ho caricati tutti. Cazzo, c'è un momento tipo strike. Guarda lì. Boh! Boh! Ottio, c'è lì. Boh! È giuratura, veramente, veramente. Vai tutti con te. Adesso cerca d'Arsaia. A questi, più alzi, più so'contenti. Cambio. Aspetta, aspetta, Flavio. Aspetta, Flavio. No, 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 no. Ma quanti l'avete risciata? Pure quelli della squadra nemica. Non stai buono. Uno, due, tre, quattro, tutti, tutti, tutti. Eh, vabbè, tutti. Pref, pref, pref. Cambio, cambia. Lasciate. l'ha fatto simone no 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 regalmente qualcosa deve entrare è stato un attimo di panni guarda cadroia soffa il triplo e il palmo di punti vostri non c'è la terza per la terza non c'è la terza per la terza non c'è la terza per la terza per la terza ha bisogno di farlo e le perde ma non c'è la terza per 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 la e le parano tutte tutte le parano toy ha fatto 160 punti solo le parate ma chi è? toy è solo lui parano bravo è bravo eh non mi trovo di niente a sto giro ma li impedi più no 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 l'ammazzo l'ammazzo proprio cioè questo potrebbe essere il mio nuovo video c'era troppo Simone a sto periodo ho salvato l'antino dai togliete dal cazzo Simone bravo Diziano bravo Diziano scusa che cazzo è successo? io mi sono caricato Simone avvio Simone avvio Simone no 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 gio no 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 giro con un collaborativo ieri Flavio il collaborativo che è successo? Flavio scudo di quercia collaborativo esci collaborativo guarda vai collaborativo Flavio il collaborativo Oddio Che ho fatto? Ho fatto vedere di Flavio come collaborativo E siccome se ne esce Bravo Gioco il collaborativo Bello da laureare Eh sì, ti manca la vista La laurea Nessuno di noi l'ha vista C'è anche Dove ho preso la ricomparsa C'è tua Io devo ancora farmi 10 partite da Platino Ma qual è la prossima posizione? Che c'è scritto? Non è meglio Non è meglio Finiamo Finiamo Gioco Gioca Gioca Bravo E ora se lo beccano Non la dì Non se lo so beccato Ha bandato la partita Oh me wow Grande Oh Dio Oh Dio Oh Dio Oh Dio Come è Rotter Joystick? Come è Rotter Joystick? Che si vuole stare a me Come è Rotter Joystick? Che? Ma come è Rotter Joystick? Ma aspetta Perché ho una palma in testa? Ma io non l'ho pure da se ne suonare Oddio 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 che ha pareto Mi starò per cazzo Mi starò per cazzo Mi starò per cazzo Oddio Oddio Che cazzo E senza turbo Mi dirlo che è di senza turbo No signor non l'ho fatto il peggio dubbio Io per un attimo non sapevo se giocava o il Dio Sono giocato a parte Ma no non l'ho fatta il peggio dubbio consiglio L'ho fatto ok Ma è stato sì per la sua Già la prima signora Mi ha fatto questa ragione Allora del video Sì ma è giocato Mi stava passando in mano Allora c'è un'altra Che è un link Ero qui Ero qui Ero qui Sì Ero qui